Democrazia, gioco democratico che ovviamente si cerca di esportare in tutto il mondo, perché? Perché ha un vantaggio incredibile sulle altre forme di governo, che in democrazia il popolo crede che si governa da sé, è responsabile degli atti, invece non è così, però non si ribella perché è convinto di essere in democrazia e di essere libero, invece è governato da un'oligarchia che non sa di avere, che si serve per i propri giochi delle cosiddette teste di legno. Le varie persone che noi vediamo sono semplicemente teste di legno che possono essere cambiate in qualsiasi momento.